Ci siamo? Devo volare di fare un video con sta tuta Ciao a tutti ragazzi, sono Hyde, come vedete torno con un nuovo video e oggi si parla di Voglio essere un mago non ve lo sto a dire, lo sapete, stanno uscendo mille video per chi non sapesse di cosa sto parlando è una sorta di reality, di magia con questa scuola dove io sono uno dei professori di micromagia insieme a Jack e Sbard è uscita da poco la prima puntata infatti ho fatto anche una reaction sul canale insieme agli altri e oggi voglio parlare un po' del backstage insomma di come ho vissuto io la registrazione della prima puntata quindi voglio darvi anche qualche curiosità farvi vedere filmati inediti che ho fatto quando ero là al castello e anche dirvi un po' cose che si sono viste, cose che non si sono viste insomma adesso ne parleremo nel video perché ci tengo parecchio prima di iniziare raga, mi raccomando, non lo dico mai ma seguitemi su Instagram perché lì vi tengo aggiornati su tutto pubblico contenuti e roba quindi idemagician su Insta fermate il video, andate a seguirmi e continuiamo fatto questo spammino vi racconto un po' intanto inutile dire che è stata un'esperienza incredibile io, Jack e Sbard non avevamo mai registrato un programma televisivo di questo tipo quindi è stato un mondo nuovo siamo arrivati là a questo castello che tra l'altro raga è fighissimo cioè ve lo assicuro anche dal vivo si chiama Rocchetta Mattei è una location assurda ci sembra proprio il castello di Hogwarts in real life infatti quello era già un punto a favore per questo programma mi ricordo che quando siamo arrivati là abbiamo fatto subito un tour di tutto abbiamo filmato varie cose perché chiaramente era un nuovo mondo anche per noi bene, ora vi faccio vedere l'entrata ufficiale del castello raga non so se sono pronti no, non sono nati pronti sono pronti? vai, vediamola è una scalinata niente di che ma alla fine di questa scalinata smetti di dire castello, porca puttana porca puttana, la Rocchetta mi hanno già l'ingresso gradini sono larghi sti gradini faccio una fatica sento delle voci e oggi in particolare vi voglio raccontare dei retroscena di quella che è la prima puntata per chi non l'avesse visto quello che succede è che vengono presentati prima i ragazzi gli apprendisti vengono poi divisi in casate vengono presentati i professori e quindi iniziano le prime lezioni di magia poi le varie casate si dividono in tre materie per fare un'esibizione finale e dopo questa esibizione finale di giochi di magia sul palco viene scelta la squadra peggiore diciamo meno meglio delle altre perché comunque sono stati sempre tutti molto bravi e questa casata dovrà andare al test di sbarramento che si vedrà poi nella prossima puntata dove potrebbe essere eliminato qualcuno ecco, tralasciando la presentazione dove chiaramente noi non eravamo presenti vi parlo prima di tutto della prima lezione di micromagia dove io, Jack e Sbard entriamo in aula per Messico? e quello che si vede sono giusto tre minuti chiaramente per tempi televisivi in quello che si vede in tv io faccio una piccola introduzione sulla storia della magia poi insegniamo ai ragazzi un color change e li facciamo provare e qua si chiude più o meno la nostra lezione ecco, in realtà questa lezione era molto più lunga durava pensate quasi un'ora e una cosa che ci è dispiaciuta è che noi entrati in classe abbiamo fatto un'esibizione a testa noi professori vi parlo della mia, avevo fatto un gioco col cubo un classico cubo mischiato nel sacchetto che poi si risolve ma il cubo mischiato da tutti gli apprendisti quindi casuale al 100% era un bel effetto, ve lo dico a voce fidatevi di me però non l'hanno messo ma vabbè non hanno messo neanche i giochi degli altri che avevano fatto Biddle Trick, aveva fatto Sbard e invece Jack aveva fatto un triumfo con le carte molto bello a questo punto un'altra scena in cui appaio è un'apparizione in una magia che insegna Eleonora di Cocco durante la sua lezione di grandi illusioni e tantissimi mi avete scritto per quella performance perché tanti hanno pensato che fosse un trucco televisivo quello che succede è che Eleonora mostra dei pannelli apparentemente vuoti li fa vedere, poi li mette a forma praticamente di scatolone gigante mette un coperchio sopra e quando toglie il coperchio dal nulla io appaio al centro di questi pannelli in realtà raga era completamente reale al 100% e io ragazzi veramente ero lì dentro la stanza ho strisciato attorno a questi pannelli per non farmi vedere ogni volta che Eleonora ne alzava uno quindi sembrava che non ci fosse nessuno in realtà io ero lì e poi sono comparso dal mezzo tanti miei amici e tanti di voi pensavano che ci fosse davvero una botola o che ci fosse appunto un taglio televisivo invece no ragazzi, è tutto reale e sarà sempre così, cioè ci tengo a sottolinearlo tutti i giochi che vedete in quel programma sono reali al 100% è in tv ma non c'entra niente il montaggio video con la magia vera e propria a parte questo dopo cosa succede? le casate scelgono una materia per l'esibizione finale nel nostro caso eravamo affidati a Volpi Rosse Volpi Rosse dovevano appunto fare l'esibizione di Micromagia e qua mi è un po' dispiaciuto, devo essere sincero perché non si vede bene il momento in cui noi insegniamo il gioco ai ragazzi hanno messo giusto una scena dove noi entriamo in classe ma poi finisce lì però qua fortunatamente io avevo documentato un po' le cose durante questo insegnamento noi siamo stati lì un paio di giorni per insegnare questo gioco e addirittura in una giornata siamo stati lì 8-9 ore per appunto insegnare ragazza a fare il gioco perché chiaramente non è semplice fare un gioco di magia sul palco tra l'altro Dani aveva fatto le carte musicali quindi un gioco anche difficile da fare tecnicamente ha dovuto allenarsi molto e aveva pochissimo tempo quindi qui abbiamo appunto insegnato, vi lascio delle immagini i ragazzi erano stragasati e anche noi a me personalmente piaceva tanto quel momento dove si insegnava proprio ai ragazzi da vicino come fare l'esibizione io ve lo giuro raga ho messo il 100% delle mie forze ogni volta adesso non posso spoilerarvi quello che succederà nelle puntate dopo ma c'è sempre il momento dove si insegna il gioco per l'esibizione e io raga lì mi sono sempre impegnato al mille per mille poi non so se si vedrà però ve lo dico io perché ci tengo a questa cosa immaginatevi che quando porti la tua casata sul palco nonostante dalla tv io e Sbard durante l'esibizione abbiamo un ruolo un po' marginale perché giustamente parla Jack per tutti sarebbe un casino parlare tutti insieme però ci siamo impegnati tutti chiaramente allo stesso modo e quindi quando vedi la tua casata lì sul palco hai agitazione per loro capito cioè se sbagliano loro è un po' come se sbagliassi anche tu quindi quella parte era molto importante a parte questo l'esibizione va bene come dopo lì è chiaro che c'è un montaggio video cioè siamo in tv quindi la performance magari non è fluida come l'abbiamo vista noi dal vivo anzi ho visto che c'è stato un dibattito enorme sul fatto che a casa si è piaciuta di più la performance dei blu nonostante in realtà in puntata siano arrivati ultimi vi assicuro raga che dal vivo quelli che hanno reso di più non erano i blu nonostante il gioco fosse stato molto bello ci sono stati degli intoppi che hanno proprio rovinato il ritmo durante l'esibizione questa cosa non è stata percepita così bene forse infatti alcuni si sono lamentati però fidatevi delle mie parole quando noi insegnanti abbiamo dovuto decidere chi portare al test di sbarramento eravamo sicuri di questa decisione quindi qua si arriva alla fine della puntata che ci lascia un po' questo amare in bocca perché non si sa cosa succederà e si vedrà in seconda puntata chi verrà eliminato se verrà eliminato qualcuno ci sono tante variabili e soprattutto riprenderà ci sarà l'ingresso di nuovi apprendisti e ora vi do un piccolo parere soggettivo di quella che è stata la mia esperienza perché dovete sapere che la prima puntata dura in realtà una settimana c'è stata una settimana di riprese lì al castello per me chiaramente è stato fighissimo fare quelle riprese poi in tv va molto meno di quelle che sono le riprese totali ma ovviamente raga hanno dovuto condensare in due ore e mezza una settimana di riprese quindi capite che tantissime cose vengono tagliate la cosa bella è che il programma sta piacendo tanta gente pensava che fosse molto più trash che riprendesse molto di più l'onda del collegio mentre siamo contenti perché in realtà la magia comunque c'è a volte è di sfondo a volte è protagonista comunque non manca ci sono sempre un po' di commenti negativi ma questo è ovvio quando l'esposizione è tanta è normale che arrivi a chiunque comunque la voce quindi chiunque giustamente si sente libero di commentare quindi arriva chi odia la cosa chi ama la cosa in ogni caso ragazzi io sono strain hype per vedere le prossime puntate spero che questi retroscena vi piacciano io ne ho tantissimi chiaramente avendo vissuto la cosa in prima persona quindi se volete vederne altre anche per le prossime puntate è tutto vi chiedo sempre di mettere un mi piace commentare insomma tutte quelle cose che creano interazione nel video come cacchio sto parlando e nulla raga noi ci vediamo alla prossima puntata ai prossimi video e se mi viene in mente altro vi dirò tutto bella raga